Ottobre è stato un mese davvero ricchissimo per i videogiocatori. Vediamo insieme quali sono stati i prodotti che più ci hanno colpito ed eleggiamo il nostro personale Game of the Month. Partiamo da uno strategico d'eccezione, Civilization Beyond Earth. Pur recuperando struttura e gameplay strategico dai vecchi episodi del brand, l'ultimo capitolo della serie riesce nel difficile compito di apparire nuovo e diverso. La struttura strategico-tattica funziona in modo impeccabile, mentre la cornice sci-fi dona un sapore inedito alla produzione, fra questioni etiche legate all'esplorazione spaziale ed un sistema di vittorie e crescita delle civiltà perfettamente caratterizzato e ottimamente calato nel nuovo contesto. Non sarà un titolo perfetto, ma una menzione fra i runner-up Sunset Overdrive se la merita e come. Lo stile esagerato, il look sopra le righe e il gameplay che mescola sparatorie e spericolate e sequenze acrobatiche sono aspetti che rendono la nuova proposta di Insomniac Games discretamente brillante. Peccato solo per la mole di contenuti non proprio al top e per una progressione che alla lunga risulta troppo ripetitiva. NBA 2K15 è un titolo dal gameplay sempre più solido, convincente ed appagante per quanto molto meno accessibile delle precedenti incarnazioni. Un videogame che unisce all'aspetto simulativo sul campo quello fuori dal campo, immergendo in un'atmosfera coinvolgente a 360 gradi. Non fosse per i problemi dell'online e per un gameplay difficilmente avvicinabile dai neofiti, avremmo un grande capolavoro per le mani. Staccandoci dal mercato dei AAA, troviamo Legend of Grimrock 2, sequel dell'RPG grid-based che qualche anno fa ha mandato invisibilio ai giocatori di lungo corso, di fatto segnando un ritorno alle origini del videogame ruolistico. In questo sequel non ci sono stravolgimenti, ma una mappa ancora più grande con una varietà incredibile di oggetti, ambientazioni, nemici e situazioni da risolvere. Passando ai portatili, Super Smash Bros. si conferma, anche in questa sua incarnazione 3DS, un titolo veramente eccezionale, che sa essere immediato e tecnico al contempo, perfetto per partite un po' più chiassose, ma anche per match tenutissimi. Forse la console da tasca non è l'ambiente migliore per il titolo, che dà il meglio di sé nel multiplayer locale e giocato con un pad, ma il numero di personaggi e soprattutto il bilanciamento certosino del particolarissimo battle system rappresentano un altro centro per Nintendo. Arrivato proprio all'inizio del mese, Forza Horizon 2 ha seriamente rischiato di vincere il titolo di Game of the Month. L'esclusiva Xbox One arricchisce la formula di gioco del suo predecessore, con una struttura in grado di miscelare egregiamente elementi offline e online, confermandosi nuovamente come uno dei più bilanciati incroci tra racing arcade e simulativi. Non dovreste avere dubbi su quale sia il racing game per passare la stagione. E concludiamo la sfilata dei runner-up con una bella coppia di horror. Da una parte c'è dei Vol Within, ritorno al survival classico in stile Resident Evil 4, reso grande dal tocco del maestro Shinji Mikami. Sono le atmosfere disturbanti, la narrazione non lineare e la buona varietà di situazioni, a reggere una delle opere più riuscite del game designer, tributo ai grandi capolavori dei tardi anni 90, ma anche reinterpretazione moderna di un genere che sembrava perduto. Certi scontri un po' estenuanti potrebbero fiaccare i giocatori abituati a ritmi più rapidi, ma a livello di iconografia e impatto scenico, dei Vol Within funziona alla grande. Dall'altra parte c'è Alien Isolation, da molti incoronato già come il miglior gioco basato sulla licenza del film. La visione dell'horror videoludico dei ragazzi di Creative Assembly si discosta molto rispetto a quella di Mikami, risultando sicuramente più moderna e subdola. Il team non solo ha messo in piedi un gameplay efficace nel trasmettere uno schietto senso di terrore, ma ha speso una mole eccezionale di lavoro nel design grafico e dei livelli, nella regia e nella pura progettazione di un'opera in grado di stupire, anche per durata complessiva. Dovendo scegliere fra le spaventose atmosfere di Alien Isolation e lo smisurato senso di libertà di Forza Horizon 2, e leggere un vincitore non era affatto facile. A toglierci le castagne dal fuoco arrivano Nintendo e Platinum Games, che pubblica in un'esclusiva su Wii U Baionetta 2. Era difficile superare per soluzioni ludiche ed esagerazioni stilistiche il capitolo precedente, ma Platinum non solo ce la fa, addirittura rilancia con uno degli action più riusciti di sempre. Il titolo sfrutta le basi di un beat'em up quasi perfetto per costruire un'esperienza di gioco ancora più roboante, vorticosa e ricca. A livello di profondità e di pura spettacolarità dell'azione di gioco, il titolo Platinum Games raggiunge nuove vette per il genere, rappresentando di fatto quella killer application che i possessori di Wii U stavano tanto aspettando.